La giornata del mare e della cultura marinara che si celebra a livello nazionale oggi 11 aprile rappresenta un'importante occasione per riflettere sul valore del mare come fonte di vita e sull'importanza di uno strumento sostenibile e delle sue risorse. Nel porto di Giulianova l'evento ha visto la partecipazione di circa 500 studenti provenienti da vari istituti scolastici della provincia di Teramo. Oggi è la più grande giornata di festa per il mare, è la più grande giornata di festa per i giovani. Condividiamo questa missione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e come Guardia Costiera siamo veramente attenti a questa tematica, a questa giornata. Traspondere nelle nuove generazioni la cultura del mare, la cittadinanza del mare, il rispetto dell'ambiente marino è una mission importantissima per noi. Anche quest'anno la celebrazione ha assunto un significato particolare per gli scolari di diverse fasce d'età con una serie di attività didattiche e conoscitive organizzate dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale di Teramo. Questa edizione ha esteso la partecipazione anche agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della nostra provincia e quindi sono circa 500 gli studenti protagonisti di questa giornata e chiaramente questa rappela la manifestazione a tutta evidenza della sensibilità che le scuole dimostrano quotidianamente nei loro percorsi didattici, nelle loro azioni per il tema, le tematiche ambientali e nella fattispecie la tutela della cultura del mare e la tutela della sostenibilità dell'ecosistema marino. Una manifestazione che mira a sensibilizzare le nuove generazioni sui rischi legati all'impoverimento delle risorse marine e ai pericoli indiretti che ne possono derivare enfatizzando il ruolo cruciale che il mare gioca per le comunità costiere e per l'umanità intera. Dobbiamo ringraziare naturalmente il comandante Alessio Fiorentino che ci dà l'opportunità di aprire sempre il porto, di far entrare le nostre scuole, di parlare di mare e di tutto quello che ruota attorno al mare. Questo fa veramente piacere e Giulianova ha l'onore di ospitare il porto dell'intera provincia di Teramo e quindi ci sembra giusto anche far conoscere tutte le realtà che gravitano attorno a questa splendida realtà.